Boom di vendite dell'arancia di Ribera DOP, un successo sottolineato dal presidente del consorzio di tutela dell'arancia di Ribera, Salvatore Daino, il servizio di Gaetano Ravana. Dai dati ufficiali del MASAF emerge un record nella vendita dell'arancia di Ribera DOP per la stagione 2023-2024. Abbiamo assistito, dichiara il presidente del consorzio di tutela dell'arancia di Ribera DOP, Salvatore Daino, ad un incremento considerevole di vendite rispetto alla stagione precedente, con 14.968.862 kg di aranja di Ribera DOP lavorati in questa stagione rispetto ai 9.933 kg lavorati durante la stagione 2022-2023, ottenendo così migliori in attesa di risultati rispetto al passato. E' stato raggiunto con grande soddisfazione, prosegue Daino, l'obiettivo di crescita dei volumi di aranja di Ribera DOP immessa nel mercato. L'attenzione da parte del consorzio tuttavia resta alta di fronte ad uno scenario complesso, carico di tensioni e incertezza. Più dettagliatamente è stato registrato un incremento di prodotto certificato lavorato pari al 66% circa rispetto alla stagione 2022-2023, un risultato che non ha uguali e che si colloca in un contesto di settore abbastanza positivo, ma non per questo privo di problematiche. La produzione complessiva dell'areale DOP appare in linea con gli ettari coltivati e si caratterizza soprattutto per un incremento dei volumi della varietà navellina e Washington Navell. I consumi in forte crescita di aranja di Ribera DOP tendono a concentrarsi maggiormente sul territorio nazionale, dove l'arange di Ribera viene commercializzata soprattutto attraverso la grande distribuzione organizzata. Nonostante gli ottimi risultati, il comparto agrumicolo-riberese e dell'areale DOP si trova a fronteggiare situazioni delicate, come le variabili legate al cambiamento climatico, che creano incertezza sul fronte produttivo. Il consorzio di tutela di Chiaradaino proverà a mettere in campo tutte le strategie possibili per sostenere le produzioni DOP e per promuoverle e valorizzarle, cercando di essere inciso nella gestione dei mercati, nell'attribuzione del giusto valore dell'arange di origine protetta e cercando soluzioni per ottimizzare anche i costi di produzione. Tutte iniziative che dovrebbero tradursi in ottimi risultati per lo stato di salute economica e sociale di tutto il territorio. In generale, sottolinea Daino, si assiste al rialzo dei costi di produzione sia per le aziende agricole che per i centri di confezionamento, situazione determinante dal punto di vista del prezzo alla vendita dell'arange di ribera DOP, che non può non tener conto di questa situazione di aumenti generalizzata. In quest'ottica bisogna rimanere vigili per impedire fenomeni di concorrenza sleale e pericoli di frode alimentare. Per garantire anche in futuro risultati ottimali per la commercializzazione dell'arange di ribera, continua il Presidente Daino, dobbiamo continuare ad agire in modo coordinato a tutti i livelli della filiera, facendo leva sulla forza di un sistema che sappia essere organizzato, unito e coerente. Le condizioni fondamentali per rispondere in modo efficace alle sfide del presente e alle crisi internazionali consistono nel rinnovare le strategie organizzative da una parte e nella conservazione della nostra tradizione fondata sulla cooperazione e sulla solidarietà dall'altra. Per Paolo Parlapiano, Vicepresidente del Consorzio di Nutella dell'Arancia Ribera DOP e responsabile vendita e marketing della Parlapiano Fruit SRL, il successo della stagione appena conclusa è da ricercare nella differenza che fanno le persone, sia come sapienti agricoltori che impiegano tecniche culturali tramandate da padre in figlio, sia come consumatori attendi alla qualità e alle caratteristiche organolettiche dei prodotti da consumare.